Visto questo suggestivo filmato, chiedo di salire sul palco qua accanto a me a Pierangelo Bressan, che è presidente di Garmut International. Noi abbiamo visto questo filmato suggestivo da cui chi non va in montagna o chi non ha fatto in particolare scialpinismo forse ha solo capito che stiamo parlando di un'azienda che fa calzature di montagna. Ma per rimetterla in moto, questa azienda, cosa avete fatto? Cosa è successo? Beh, ho suggerito a lei di far lanciare il video perché penso che i fatti possono parlare un po' diversamente delle parole. Se non sono molto abituato a venire dopo personaggi di questo calibro, come ho avuto modo di vedere in questo palco. Diciamo cosa è successo? Fino al 2013 mi viene posta questa opportunità di prendere questa azienda, nota, un marchio molto importante. Lei diceva prima che appassionato i scii lo conosceva. Esatto. Purtroppo le vicende, come accennava qualche mio predecessore, molte aziende spesso hanno sofferto voi la liquidità, voi alcuni errori. Comunque a fine 2013 l'azienda stava collassando. Aveva ceduto il brand dello sci, lo sci inteso come scarpone da sci di plastica, e si era focalizzato solo e esclusivamente sulla parte più montagna estiva, lo scarpone, pedula, eccetera. Di lì è nata l'opportunità tramite alcuni consulenti di dire guarda c'è questa azienda, è un'azienda molto sana dal punto di vista del brand, del marchio, del prodotto, però ha dei grossi problemi di carattere finanziario, eccetera. Io dico l'unica soluzione che intravedo è quella di prendere in affitto d'azienda dalla procedura e per un periodo X vedere se c'era l'opportunità di poterla far rinascere. Non nascondo che è stato un azzardo molto forte perché il curatore ovviamente aveva delle pretese, io ho fatto un'operazione di finanza, mi sono rivolto a un mercato che è quello delle banche dove ti guardavano con occhio critico, sì sei un imprenditore che ha avuto successo in altre attività, però competenze zero, però tutto sommato vuoi qualche istituto che a suo tempo un po' di liquidità ho attinto a varie banchette, banchette un po' piccoline e qualche finanza l'ho trovata. La fortuna è stata che alla fine del 2015 ho incontrato quasi per caso il dottor Russo, qui presente anche, direttore generale di Veneto Sviluppo, il quale dice mi piace cosa stai facendo, perché non ci parliamo? Hanno fatto la loro analisi e hanno deciso di mettere in equity una parte di finanza che mi ha dato veramente il cambio di direzione. Di direzione significa sicuramente una parte di finanza, ma anche una grande credibilità nei confronti di tutti ciò che sono gli istituti di credito che loro rappresentano, perché un 49% sono banche, loro soci, e lì è cambiata la versione, sia dal punto di vista del credito ma anche dal punto di vista della visibilità. E' chiaro che i numeri li facciamo noi come imprenditori, non la fa la finanza. Abbiamo fatto un'evoluzione completamente radicale dell'azienda, ha preso le persone più importanti, avete visto un manager molto quotato. Negli Stati Uniti nel 2014, già ancora in fase di concordato, ho deciso di prendere un manager di New Balance, perciò personaggio che costa una cifra, però ci sta facendo entrare nel mercato americano in maniera molto prepotente. I numeri parlano da sé, siamo partiti da 7 milioni il primo anno, chiuderemo 2017 quasi a 14, e con grandi, grandi prospettive. Chiaro, non voglio denigrare Veneto Sviluppo, ma è un partner provvisorio, perché oggi siamo arrivati qui, ma per fare il salto di qualità, per arrivare a... Infatti nel filmato, ad un certo punto, dice che questo è solo l'inizio. Bravissimo, bravissimo. E adesso che cosa c'è? Beh, adesso, non so se avete notato, noi siamo fornitori certificati dagli USA Army, USA Army significa il mercato americano delle armi. Circa 3 milioni e mezzo, 4 milioni oggi, rappresentano anche una parte di fatturato importante. Cosa fornite? Gli scarponi per i militari, certificati da un PIO, con un ente certificatore, che permette a tutto il mercato americano di poter vestire quel tipo di prodotto. Avere risorse oggi per poter investire in quel mercato che ha potenzialità, non le dico, illimitate, sarebbe un'opportunità. Chiaro che se vogliono le finanze, noi investiamo circa 6-700 miliardi in marchi di comunicazione, che nulla nel confronto di un mondo come questo. Avremmo bisogno... Cioè, noi siamo tranquillamente in linea, guadagniamo bene, però se volessimo fare il salto di qualità, quando Veneto Sviluppo ci dovrà abbandonare, dovremo trovare qualcuno, oppure accontentarci di questo trend, che comunque è sempre positivo. Ma la sua speranza è invece di incontrare un partner? Beh, io preferisco, meglio essere in tanti, in pochi, cioè, meglio essere, avere una piccola quota di una grande torta, che una grande quota di una... Piccola torta. Sì, ecco, in dialetto si dice qualcosa di diverso. Va bene, va bene. Sì, questo è un po' il mio percorso. È chiaro che mi è piaciuto molto quando qualcuno ha detto, non ricordo chi, che la finanza fa il suo percorso, ma sono gli imprenditori che fanno poi girare la finanza. Io ho preso un piccolo seme, che era il brand, l'ho annaffiato bene, ho cercato di coltivarlo, chiaramente ho attinto alla finanza, ho messo del mio, perché ho rischiato anche l'osso del collo, perché capisce che se la procedura non fosse passata... Ma per oggi stiamo vivendo un momento un po' strano, anche di coincidenza. Ieri sera è intesa, per dire, non è una pubblicità, ma ha deliberato un migliore di euro a nostro favore. A cinque anni è un tasso molto, molto... Sì, non è una marchettata, però... Assolutamente, abbiamo fatto un dibattito con Intesa e Veneto Sviluppo, e casualmente... Però, dicevo al Presidente poco fa, è proprio una coincidenza questa. Comunque, oggi abbiamo fortunatamente credito, visti anche i risultati. Certo, ma entro sul piano dell'innovazione di prodotto, perché la finanza sarà importante, è certamente un veicolo decisivo, ma qual è stata la vostra mossa vincente? Beh, la prima mossa è stata quella di innovare, ovviamente, il parco prodotto. Il parco prodotto è un po' svecchiato, e andare in un mondo che è quello dell'outdoor, che oggi sta vivendo un momento di grande entusiasmo. non le vie delle marce, le trail, eccetera, eccetera. Seconda cosa importante, e secondo me determinante per uno sviluppo che sicuramente non ho dubbi che possa essere, come dicevo prima, Garmon Terra, estate, pedule e inverno sci. Fino all'anno scorso, noi non facevamo nulla di invernale. Quest'anno abbiamo fatto una nuova linea e ha triplicato il fatturato dell'invernale. Da un milione siamo passati a tre milioni. Solo il primo rancio. Se questo è l'inizio, credo che arrivare a 30 milioni di giro di qualche anno non sia un miraggio, anzi sia una cosa fatica. Chiaro, finanziare 30 milioni di fatturato è diverso che finanziarne 14-13, però ci speriamo. Perfetto, Lodesani intanto ha preso appunti. Tenga nota. Va bene, grazie mille.